Le aberrazioni numeriche possono interessare non raramente anche i cromosomi sessuali, causando degli effetti meno gravi di quelli che si osservano nell'alterazione degli autosomi. Le sindrome più importanti sono la sindrome di Turner, nella quale è mancante un cromosoma X e pertanto colpisce unicamente il sesso femminile dal momento che l'annullamento di tale cromosoma nel maschio non è compatibile con la vita, e la sindrome di Kleinefelzer, propria del maschio, in cui sono presenti uno o più cromosomi X addizionali. Grazie a tutti.